buongiorno a tutti allora magliettina di pagliuca perché come al solito mi hanno fatto girare i testi perché stamattina stavo guardando un po su facebook eccetera sono uscite le solite cose no le solite cose sui possibili sostituti di cardi poi c'è uno dei ragazzi che sta seguendo che se non erro è tifoso del sassuolo quindi è super partes che se ne è uscito con la frase i cardi sarebbe da vendere perché tanto è il peggior attaccante dell'inter dal 2002 a oggi eccetera eccetera e poi vabbè lasciamo perdere i nomi che vengono fuori zecco zapata e c'è tutta gente che gli può legare gli scarpini ai cardi gli lega gli scarpini poi possono dirmi quello che vogliono ma allora uno ha 33 anni cosa ce ne facciamo e l'altro perché ha fatto dieci partite decenti nell'atalanta perché adesso sta di nuovo facendo ridere zappata almeno avessi sentito muriel che tecnicamente ricorda 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 molto lontanamente ma un po ricorda ronaldo quello nostro un po perché ogni tanto qualche numerino alla ronaldo lo fa però anche lui è discontinuo eccetera quindi mi è salita la carogna perché spiego allora sentire dire i carni e scarsi tecnicamente non è eccelso siamo d'accordo però segna 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 in una squadra che non è che ha i fenomeni perché signori miei Filippo Inzaghi è stato il peggior attaccante del Milan e della Juve tecnicamente forse solo allora nel Milan magari incocciati e Calloni erano peggio di Inzaghi ma gli altri erano tutti però il signor Filippo Inzaghi era uno che segnava e siccome al centroavanti quello che conta è fare gol non fare i ghiri gori far vedere come sono bravo che la stoppo al volo anche se arriva da 150 metri di altezza io te la metto giù sì ma che cazzo me ne frega scusate il francesismo se mi fai 12 gol a campionato io preferisco uno che non sa stoppare una palla eccetera e in 38 partite me ne segna 29 quando gioca eccetera quando va di sfiga proprio ti fa 18 gol ma proprio perché fa un'annata sfigata quest'anno farà un'annata sfigata perché non sta giocando un po' infortunato un po' sempre so le sue paturni eccetera ha fatto nove gol quest'anno in Champions vogliamo vedere i card in Champions per me non fa neanche un gol ne ha fatti quattro uno più bello dell'altro cioè mi va bene che vendano i card mi sta bene però voglio un attaccante che mi faccia 35 gol e me li garantisca perché per sostituirlo con Zeko che ne fa 10 però fa salire la squadra ma che cazzo me ne frega sempre usando il francesismo che abbiamo un centrocampo che ha due giocatori decenti su sei il nostro centrocampo Brozovic che finalmente finalmente è un annetto che sta giocando bene bene non benissimo bene sta facendo il suo compito bene il suo 6 e mezzo fisso minimo lo porta a casa sbaglia poche partite sbaglia poche partite cosa che non faceva prima non sta facendo il lazzarone quindi di Brozovic possiamo parlare bene poi abbiamo Nainggolan Nainggolan ha giocato il 40 per le partite globali dell'inter e di quel 40 per cento un 5 barra 10 per cento l'ha giocato bene l'altro 30 è tra la pena sufficiente e l'insufficiente quindi poi Gagliardini possiamo puntare su Gagliardini che sono più i gol che sbaglia che quelli che segna che nell'Atalanta sembrava il nuovo Ancelotti o quello che è e poi dopo Vecino Vecino ti segna un gol importante è importante perché lui segna i gol importanti però le partite sono 38 che tu mi segni in quattro partite importanti e nelle altre 34 ti mangi l'impossibile come faccio a contare su di te se io ho anche il centravanti che mi fa salire la squadra la smista ai vari centrocampisti che non segnano neanche a piangere un attaccante che mi fa 12 gol e mi fa 150 assist che facciamo 5 gol in 150 assist noi notiamo per non retrocedere perché è vero che abbiamo una difesa che è forte quindi fai fatica a prendere gol però a fare gli 0 a 0 fai un punto se tu fai 12 partite segni 6 gol e subisci 3 gol per dire cosa fai? 3 partite le perdi 3 le pareggi e 6 le vinci con questa media qua forse arriviamo quarti come sempre ma non vinci gli scudetti quindi abbiamo bisogno di uno che segna altra cosa proseguiamo con gli altri centrocampisti Gioa Mario Gioa Mario anche lui fa una partita buona e quattro che aiuto poi l'apoteosi è stato quell'errore sbagliato in quel derby di Coppa Italia che l'ha rovinato definitivamente stava giochichiando bene ma ormai l'allenatore non lo fa più neanche giocare quindi quando ci serviva in Coppa non poteva giocare perché era fuori rosa quindi che lui e poi chi c'è? Gagliardini, Vessino? Ah Borca Valero Borca Valero grandissimo ma c'ha 30 e passa anni c'ha mezz'ora di autonomia come il ritmo si alza lui va in crisi perché logicamente non ha il passo dei giovincelli se il ritmo è bailato tranquillo lui ti fa ballare la samba perché il pallone lo sa giostrare mica da ridere però anche lui è quello che è quindi anche lì poi i due esterni Perisic quest'anno è sotto media perché di solito lui fa 11 gol e 11 assist più o meno quest'anno ha fatto 3 o 4 gol e 3 o 4 assist quindi è sotto media completamente mancano 10 partite magari nelle prossime partite riesce a fare 6-7 gol, 8 gol, riesce a tornare in media riesce a fare quei 6-7 assist e torna in media Politano quando l'abbiamo preso tutti hanno non si può giocare la Champions con Politano come cazzo fai a giocare con Politano scusate il francesismo Politano è stato uno degli acquisti più azzeccati che abbiamo fatto meno male però è sempre Politano non è Bale è Politano non è Giggs è Politano non è Luis Figo è Politano ripeto quindi siamo sempre lì poi la storia che Icardi non può giocare con una seconda punta allora io Icardi quando l'ho visto giocare con Eder di fianco che Eder dell'Inter non è che ha fatto chissà nella Sampdoria 12 gol in 15 partite è arrivato a noi e non segnava mai però quando Icardi ha di fianco il compagno la palla gliela passa è logico che se il Perigi sta sulla fascia a fagli cross il Politano sta sull'altra fascia a fagli cross e lui è in mezzo a chi cacchio la passa la palla avete visto il gol dell'Inter con Vessino che si è inserito perché finalmente ha messo un giocatore che si inserisce e si butta in mezzo all'area e si va a vedere quello che ha fatto il Lautaro lo fa anche Icardi quando Gio Mario sbagliò il gol nel derby quel colpo di testa glielo fece pari pari Icardi per metterlo lì davanti alla porta a segnare poi se lui gli tira addosso al portiere è un altro discorso quindi non è vero che Icardi non giocherebbe con un compagno anzi può tranquillamente dialogare però è logico devi avere un centrocampo con Brozovic Nengolan e altri due centrocampisti con i contro Maroni non con Vessino Vessino va bene lo tieni in panchina quando serve lo metti dentro perché comunque il suo lo fa però non è eccezionale cominciate a fare un centrocampo fatto bene cominciate a mettere due punte fatte bene perché comunque Politano può fare l'esterno tranquillamente giochiamo col 3-5-2 come giocava Trapattoni con l'Inter dei record con due esterni che sanno salire eccetera io ieri vedevo la Francia c'è Griezmann che spesso fa il terzino al posto di Varane Varane va avanti e lui va indietro e dà una mano in difesa per quello anche prendere un Griezmann non ci serve perché è una seconda punta è uno che svare e fa il Politano per intenderlo poi certo ha fatto gol si è inserito bene tutto quello che volete io non ne vedo di giocatori che possono sostituirmi unicardi che sarà anche scarso tutto quello che volete ma che segna e segna con una squadra che non è quella che avevano i giocatori dal 2002 in poi segna con una squadra che all'inizio aveva Campagnaro Kuzmanovic Medel non ce li ricordiamo e lui segnava lo stesso l'errore ve l'ho già detto è colpa di quella Senoritas che se ne è uscita con quella frase perché lei deve sempre fare la fenomena perché deve mettersi lassù anche lei sul piedistallone io sono la più bella io sono la più brava io sono la più intelligente io sono io sono io sono e Maurito è questo e questo e quell'altro e quando lei è venuta fuori col dire basta che Maurito fa così e sono tutti ai suoi piedi lei si è data una zappa sui piedi a sua volta perché ha rovinato completamente il rapporto che c'era tra lui e i suoi compagni perché lui logicamente essendo succube perché come spiegavo nell'altro video che diceva a quel ragazzo lì che lo conosce che demanda tutto a lei come se fosse sua madre non la sua fidanzata ma sua madre quindi gli chiedi una cosa chiedete a Wanda chiedete a Wanda perché tu non hai un minimo di capacità cioè hai 26 anni non hai 16 a parte che io a 16 anni decidevo io non è che devo chiedere a mia mamma se posso lo facevo a 8 anni devo chiedere a mia mamma se posso a 16 anni dicevo ai miei guardate che faccio questa cosa qui poi al massimo mi dicevano di no ma non è che andavo a chiederglielo io glielo imponevo gli dicevo io faccio questa cosa qui siccome è una cosa normalissima guardate che vado lì a fare la partita pallone punto non è che mi dicevano no non ci vai a meno che non c'era un motivo valido se no e lui deve chiedere deve andare chiedete a Wanda hai 26 anni è la tua donna non è la tua mamma tu sei padre dei tuoi due figli più il più degli altri tre di quell'altro quindi non è che deve decidere lei per te decidete assieme come si fa in una coppia in una coppia due persone parlano si mettono d'accordo e si decide assieme solitamente è così poi in altre coppie c'è quello io ho detto così tu muta rassegnata cuccia o viceversa lei che dice tu muto rassegnato perché sei nessuno come si vedeva nel film di Fabio De Luigi che ha come si insuol dire appeso il cappello ma comandava lei e lei decideva cosa fare cosa non fare lui doveva stare muto poi dopo ha provato a farla fuori è morto lui però ripeto cioè è facile dire ma si lo vendiamo si ma ho capito ho capito che non è tecnicamente eccezionale però è uno che segna e se non ne prendi un altro devi cambiare gioco devi fare in modo che siano gli altri a segnare siccome in questa squadra non segna nessuno perché ripeto Messino ti fa un gol ogni dieci partite quando va bene importante ma un ogni dieci Gagliardini sorvogliamo segna solo a porta vuota tira una mina tremenda un metro dalla porta e segna perché se è solo a 6-7 metri prende il palo ad andare bene prende il palo Peris si è addormentato Politano anche lui più delle volte si accentra fa il numero in tira ti fa un gol e gli altri nove tiri finiscono fuori Messino ha segnato quel gol lì perché era un metro dalla porta è arrivato in mezza rovesciata ma anche se la svirgolava andava dentro lo stesso perché non poteva non uscire era un metro dalla porta e quindi perché se no anche lui gli è arrivato l'altro pallone che era più facile da me non dico segnare almeno c'entrare la porta poi magari il Donnarumma te lo prende però c'entrare la porta no ha preso il piccione che si è anche incazzato perché fa ma come non c'è più Guarin adesso ci deve arrivare questo qua ma gli uruguayani non sanno perché se non ero anche Guarin è un uruguayano ma magari mi sbaglio ma colombiano boh quel che è se no colombiano dovrebbe essere non ho guardato dovrei guardare comunque anche Guarin personello poi ci ha segnato ogni tanto qualche gol lo faceva ha segnato anche lui nel derby un gol importante però al più delle volte mi prendeva il piccione e anche Vecino prende i piccioni quindi è facile dire prendiamo questo prendiamo quello prendiamo quello e quello ti fa salire la squadra adesso abbiamo Lautaro Lautaro è un giocatore da tenere assolutamente ma secondo me possono giocare tranquillamente assieme devi semplicemente cambiare il modulo e prendere dei centrocampisti che siano atti a questo modulo o giocare col 3-5-2 non sei capace Spalletti di giocare in quella maniera lì si prende un allenatore che sa giocare in quella maniera lì vogliono prendere Conte benissimo io non sono d'accordo ma sarò il primo a dire se Conte farà bene bravo Conte complimenti se Conte farà cagare dirò avevo ragione io eccetera eccetera mi dispiacerà perché comunque a me interessa al bene dell'Inter poi chi l'allena per me può anche allenarlo uno che scortica bambini non me ne frega niente se mi fai vincere cacchio me ne frega quello che fai nella tua vita privata sono affari tuoi è una battuta è un paradosso perché francamente è quello che conta però se mi vai a prendere uno zecco a 33 anni uno zapata che non ha dimostrato nulla è solo un bel cambellone un bel cavallone è come quando l'Inter prese Klisman io pensai tengono Diaz e prendono Klisman no Serena Klisman una coppia malassortita che più malassortita non poteva essere e infatti non è che abbiamo fatto nulla di eccezionale proprio perché non c'entravano niente erano lì che si pestavano i piedi uno vicino all'altro arrivavano i cross sul secondo palo non c'era mai nessuno invece Lautaro intelligente si è visto subito c'entra avanti intelligente quando gioca con i carni cosa fa? si sposta sul secondo palo e i gol che ha fatto nelle amichevoli sono tutte perché tutti i suoi carni a marcarlo lui si spostava dall'altra parte leggermente spostato si trovava libero gli arrivava il pallone e la metteva tra l'altro ha fatto un gol che lì ho detto questo tecnicamente è forte perché uno che ti segna un gol del genere è tecnicamente forte poi che magari qualcuno mi dica che non è nulla di eccezionale ci sta ci mancherebbe sono opinioni per me questo tecnicamente è il giocatore più forte tecnicamente poi da qui a dire che segnerà 30 gol ce ne vuole perché? perché non è una prima punta un giocatore di un metro e settanta non può fare la prima punta nano galderisi la faceva ma perché aveva un prevener Elker Larsen che gli andava sulla fascia e gli portava via i difensori e lui si trovava da solo e poi perché comunque nano galderisi tecnicamente non era mica male però non poteva fare la prima punta giocava con un'altra punta e uno di un metro e settanta non puoi metterlo a fare la prima punta perché è bravo a tenere palla tutto quello che vuoi ma non può fare a sportellate ti trova davanti uno Skriniar non tocca palla neanche lui come si è visto Piate Piate che è un ottimo attaccante però logicamente sai di fronte uno dei difensori più forti anche tu non combini nulla c'è poco da fare perché uno Skriniar anche CR7 quando abbiamo giocato a Torino Skriniar l'ha annullato completamente però logicamente non è che può mancare anche Manzuki Manzuki l'ha marcato a Samoa che ha fatto la dormita e Manzuki ce l'ha castigato se tu hai tre Skriniar mettimi in campo chi vuoi ma non segni più a meno che non ti inventi la punizione diretta in porta o a meno che non sale il difensore che allora magari riesce a come è successo difensore o centrocampista quello che è ma l'attaccante non segna più a meno che non è un super fenomeno e non ce ne sono perché oramai i Messi stanno piano piano invecchiando e i CR7 stanno piano piano invecchiando e dietro e dietro Mbappé sì bravini ma e a me spiace perché francamente avendo visto i calciatori dagli anni metà degli anni 70 fino a oggi sto vedendo sempre più un decadimento non nella mediocrità ma nel bravi bravi ma non fenomeni bravi ma non fenomeni tanti bravi 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 giocatori ma non vedo quello più forte quello a parte appunto i Messi e CR7 che sono una spanna sopra gli altri ma sono solo due una volta ne avevamo 20-30 che non sapevi neanche a chi darlo al pallone d'oro perché c'era l'imbarazzo della scelta adesso ne hai due e gliele ha andato a Modric proprio per perché aveva fatto qualcosina di più degli altri ecco bene io ho parlato anche troppo fatemi sapere voi cosa ne pensate perché ho parlato per 20 minuti mi sa che vi ho lesionato i testi e ci vediamo ai prossimi video ciao ciao